Parata di Vipper Red Carpet inaugurale della settantottesima edizione della mostra del cinema di Venezia, tra le più attese ovviamente c'è la protagonista della pellicola d'apertura di Pedro Almodovar, Madres Paralelas, Penelope Cruz. La 47enne ha scelto ancora una volta la Maison Chanel, la diva spagnola ha conquistato il tappeto rosso con un abito ricco bianco e nero con spalline volante inserti nella gonna. A Lido anche la super top italiana bianca Balti bellissima in un abito vaporoso e spumeggiante in giallo firmato dolce e gabbana. Sceglie il tote black la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez in Ermanno Scervino con un tie or sexy ed elegante. A Venezia arriva anche la supermodel Adriana Lima fasciata in un abito aderente dietro. Sul Red Carpet anche Paola Turani in dolce attesa, la partecipazione dell'influencer non era certa, sono davvero molto soddisfatta. Felice di aver scelto di venire alla mostra del cinema. Nonostante i dubbi iniziali. E' andata benissimo, ha però dopo aver sfilato sul tappeto rosso con un pancione ormai immenso. L'influencer, sposata con Riccardo Serpella, è arrivata a Lido al nono mese di gravidanza. Per il suo look ha vinto la semplicità firmata a Tilly e me.